Lorenzo Valla è uno dei maggiori esponenti dell'umanesimo italiano ed è anche un abile filologo. L'intreccio di questi due interessi è alla base della stesura del suo trattato sulle eleganze della lingua latina. Il latino non è più la lingua dei parlanti del Quattrocento e anche la lingua dei documenti ufficiali e della burocrazia è ormai il volgare. Durante il Medioevo invece il latino era stato la lingua indiscussa del potere.